Buona notizia, ricordo che questa controversa risoluzione che tra altre cose definiva anche l'aborto come un diritto umano e ha osteggiato la campagna a uno di noi, se fosse stata approvata avrebbe determinato degli effetti inquietanti, tutti gli stati e membri dell'Unione Europea tra cui c'è l'Italia, sarebbero stati invitati a garantire fin dall'età più giovane l'aborto anche senza consenso di genitori, avrebbero dovuto garantire la contraccezione, la fecondazione assistita, ci sarebbe stata una sorta di rieducazione degli insegnanti sulla teoria del gender, corsi obbligatori a scuola sull'identità di genere e la cosa anche più pericolosa, si sarebbe chiesto di regolare anche l'obiezione di coscienza su queste tematiche. Ecco, ma la partita è chiusa? Questa risoluzione controversa era già stata respinta lo scorso 22 ottobre, poi è tornata in commissione il 26 novembre scorso, adesso è stata bocciata, è veramente un accanimento, lascia molto perplessi, fa parte di un ragionamento molto complessivo perché qui dentro ci sta anche l'altro famigerato documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sugli standard dell'educazione sessuale in Europa. C'è proprio un disegno preciso, ben orchestrato che tende a estremizzare questa teoria del gender e soprattutto a una sorta di indottrinamento dell'educazione sessuale nei confronti dei giovani, anche nelle scuole. Chi chiaramente sosteneva questa risoluzione bolla come ipocrita e oscurantista il voto dell'Aula? La stessa eurodeputata Estrella aveva usato parole fortissime nei confronti di chi si opponeva alla sua risoluzione, addirittura lo definiva chiunque si opponesse a questa risoluzione come cito tra virgolette, un estremista conservatore di destra che vuol far tornare i diritti delle donne indietro di 30 anni. Ma qui siamo all'ideologia pura, la ragione non ha più spazio. Nella risoluzione si parlava di medici, tra virgolette, costretti a praticare l'obiezione di coscienza nelle cliniche religiose e si chiedeva, cito, servizi di qualità per l'aborto legali, sicuri e accessibili a tutti. Questa è la grande maschera di ipocrisia dietro la quale si celano tutti questi interventi. Sull'aborto sicuro a me piace citare l'intervento che ha avuto l'arcivesco Francis Chollicat, che è il nuncio apostolico, l'osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite. Dopo aver detto che tutto questo ragionamento della teoria del gender è decisamente molto riprovevole, ha usato un'espressione che l'aborto è sempre sicuro, tra virgolette, solo nel senso che sicuramente uccide il bambino e ferisce profondamente la madre.